Ok, adesso dobbiamo fare colpo con braccio destro, per questa cosa dobbiamo spostare gamba destra indietro, spalla va indietro e dobbiamo fare boom, colpo destro direttamente avanti, pronti? Ok, cominciamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, preparati meglio, ok, 8, movimento più lungo, portiamo spalla indietro, 9, spalla indietro, ok, 10, cambiamo guardia, adesso dobbiamo lavorare con braccio sinistro, con la spalla che c'è indietro, e 1, 2, 3, 4, ok, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfetto.